ciao ciao a tutti e bentornati sul mio sbrillocicoso canale come promesso sono qua dopo aver pubblicato il video del contest sono qua per mostrarvi un tutorial un tutorial tra l'altro che ancora che è una sorpresa proprio perché sicuramente è tanto tempo che non ne faccio diversi progetti in sospeso che farò sicuramente piano piano però siccome mi è venuta l'idea appunto di questo progetto da proporvi proprio in occasione delle feste natalizie sono partita da questo ed è bello perché nessuno di voi l'ha mai visto nemmeno in anteprima anzi adesso magari mente caricherò il video per sto sticarvi un po pubblicherò la foto però ora sposto la campanella e vi mostro il progetto eccolo qua il bracciale holiday guardate quanto è bello io lo adoro veramente tanto e tra l'altro i materiali sono veramente pochissimi ed è di facilissima realizzazione ho fatto chiaramente andremo a fare un modulo che si ripeterà che si ripeterà per la realizzazione del bracciale io in questo caso ho messo sette moduli ma sicuramente per posti un pochino più esili o mettendo una chiusura più importante più grande basteranno sicuramente anche sei moduli soltanto guardate quanto è bello tra l'altro come è successo per il bracciale calì chiaramente potevo non proporvi anche l'alternativa per fare la parura ho realizzato chiaramente con lo stesso modulo anche gli orecchini guardate quanto sono belli guardate quanto sono belli chiaramente a rombo come piace a me ma nulla vieta a chi preferisce la forma quadrata di metterli anche così e praticamente con questo tutorial vi regalo un'altra parura come è successo appunto per il bracciale calì quindi spero veramente di vedere tante vostre versioni orecchini tratti dal modulo del bracciale holiday e bracciale holiday veramente spero che vi piaccia e tra l'altro ecco voglio voglio fare un appunto perché quando è nato esattamente quest'estate avevo cominciato a pensare un pochino al modulo poi l'avevo lasciato lì come ho lasciato lì tante cose era nato il modulo con l'esso mentre in questo caso ho usato le super duo perché per una volta ho voluto regalarvi un tutorial dove ci siano veramente materiali che abbiamo tutti in casa perché qua se capite ci sono dei cipollotti 6x4 ci sono delle rocali in varie misure e ci sono delle super duo quindi veramente lo potete fare tutte tranquillamente nei colori che più preferite il progetto iniziale era questo che prevedeva l'esso però chiaramente l'esso dopo sicuramente non le avete tutte quante come tutte quante abbiamo le super duo sicuramente davo un effetto più tridimensionale dopo ho fatto anche qualche modifica nel corso della definizione diciamo del progetto in ogni caso mi piace molto il risultato come è venuto con materiali poveri e semplici che abbiamo tutti quanti in casa veramente io allora vi lascio all'elenco dei materiali e alla realizzazione del tutorial ciao ed ecco quindi il materiale di cui avremo bisogno per realizzare il nostro bracciale holiday avremo bisogno di cipollotti 6x4 io sto utilizzando questa colorazione avremo bisogno di super duo di rocaille della miyuki nelle tre misure 8 0 11 0 e 15 0 il filo io sto utilizzando come sempre il fire and a 0 15 l'ago utilizzo sempre il pony beading da 10 poi avremo bisogno ovviamente delle forbici avremo bisogno di due anellini e del relativo moschettone e delle pinze per poter appunto apporre gli anellini e la chiusura bene ora procediamo con la realizzazione del bracciale eccoci qua come prima cosa dovremo inserire sul lago 4 rocaille 8 0 le portiamo alla fine del filo eccoci qua ok facciamo la classica chiusura cerchio io passano di nuovo in tutte le perline poi cosa facciamo un modo per chiudere appunto a cerchio ok bene qua abbiamo il nostro nodino poi io cosa faccio il più delle volte praticamente prima di procedere a tagliare unisco i due fili così sono sicura che il nodo non si può sciogliere in nessuna maniera chiaramente qua sto utilizzando delle 8 0 quindi mi è possibile fare questo procedimento in quanto il nodino poi passerà attraverso le perline e poi chiaramente taglio il filo in eccesso ecco adesso io qua avevo prato di mano questo ok va bene voi potete usare le forbici adesso avevo la parola di mano perché solitamente uso l'arnese brucia filiche mi trovo benissimo comunque vi ho voluto far vedere anche questo metodo perché quando è possibile sicuramente il nodo è molto molto più resistente e in tutti i moduli farò questo procedimento infatti allora ora per procedere nella lavorazione scusate tiro il filo e mi allontano dal nodino ancora eccoci qua passo praticamente in un paio di perline ancora giusto da da quando ho terminato la lavorazione eccoci qua esco da una delle da una delle quattro rocaille 8.0 e metto sul lago altre due rocaille 8.0 e non farà oltre che passare di nuovo in quella successiva dopo si sistemeranno bene praticamente praticamente fra ogni perlina farò questo inserimento di 2 8.0 ed eccoci qua che a fine giro dopo aver inserito due perline 8.0 due rocaille 8.0 fra ogni rocaille 8.0 mi ritroverò ad uscire dalla prima della coppia delle rocaille inserite nel giro appunto appena finito metterò sul lago altre due rocaille 8.0 e passerò praticamente nella seconda della coppia passando direttamente se ci riuscite anche nella rocaille 8.0 della coppia successiva la prima sempre in modo da sbucare nuovamente ecco come vedete le rocaille si sistemeranno di nuovo altre due rocaille 8.0 e di nuovo passerò in quella successiva se ci riesco in un colpo solo anche da qua dietro la telecamera non ci riesco quindi lo faccio dopo ma sicuramente voi senza la fotocamera davanti riuscirete subito ok passerò quindi anche nella 8.0 successiva quella della la prima della coppia successiva in pratica in modo da uscire di nuovo ecco vedete anche queste sono sistemate in modo da uscire di nuovo in mezzo farò questo procedimento anche per questa coppia e per l'altra ed ecco come si presenterà il lavoro alla fine di questo giro abbiamo realizzato praticamente questa crocetta sto uscendo in mezzo sempre fra le due rocaille 8.0 a questo punto inserisco sul lago una rocaille 11.0 e passo appunto nella coppia nella seconda della coppia nella quale 8.0 la seconda della coppia tiro bene il filo in modo che si posizionerà in questa maniera ora è arrivato il momento di inserire sul nostro algo il cipollotto 6x4 una volta inserito passerò nella prima della coppia successiva direttamente tiro il filo eccolo qua e qua inserisco nuovamente in mezzo alla coppia una rocaille 11.0 di nuovo un cipollotto 6x4 sul lago e passo nella coppia successiva tirando sempre bene il filo in modo che come vedete i cipollotti si sistemano proprio qua al centro delle crocette procedo così fino alla fine fino alla fine del giro ecco come si presenterà il lavoro una volta terminato anche questo giro ora esco dalla prima rocaille 11.0 che abbiamo inserito qua in mezzo alle 8.0 e metto sul lago una superduo e una rocaille stavolta 15.0 passo nel cipollotto e tiro il filo e la superduo con la rocaille si posizioneranno in questa maniera ora metto sul lago una rocaille 15.0 e una superduo così e mi infilo nella rocaille 11.0 qua in mezzo ancora una superduo e una 15.0 fatta attenzione che praticamente l'inserimento delle superduo con le 15.0 dovrà essere fatto in modo speculare cioè inseriremo la superduo a contatto con la 11.0 dovrà sempre essere libera dalla 15.0 la metteremo prima della superduo quando usciremo dal cipollotto e dopo la superduo quando entreremo nel cipollotto spero che questo passaggio sia chiaro perché è fondamentale che sia così ecco come vedete si posizionano in questa maniera ok adesso vi faccio vedere un'altra volta insieme di nuovo una rocaille 15.0 una superduo e passo nella 11.0 che abbiamo qui in mezzo tiro bene il filo una superduo e una 15.0 e passo nel cipollotto possiamo volendo anche finire insieme lo faccio sempre a volte quando i passaggi comunque si ripetono per far durare meno il video per quello che vado avanti e non finisco il giro con voi perché comunque i video più sono brevi secondo me più abbiamo la voglia di seguirli quindi speriamo che questo video non durerà tantissimo e che sia di facile che lo seguiate in modo facile diciamo ok qua poi abbiamo l'ultima che combacerà con la prima inserita quindi in questo caso metteremo così una 15 e una superduo e ci infileremo di nuovo qui ora mi porto avanti adesso spero da qua dietro di riuscire a passare bene in mezzo appunto alle perline perché devo passare praticamente ecco che io ok così sono sicura che siamo passati anche dalla 15 perché devo passare praticamente nella superduo nella 15 nel cipollotto e nuovamente nella 15 che ci troviamo dopo solo nella 15 ok io invece sono passata anche nella superduo perché da qua dietro non ho visto bene ok rimediamo subito perché dobbiamo uscire qua dalla 15 0 che precede la superduo a questo punto metterò sull'ago 3 rocaille 11 0 e passerò nel foro alto della superduo passerò anche direttamente nel foro alto della superduo successiva in modo da unirle in questa maniera ok di nuovo adesso uscendo dal foro alto della superduo 3 rocaille 11 0 scendo nella 15 0 che abbiamo sotto ok mi infilo lì così sono sicura di averla presa perché da qua dietro credetemi è tutto più difficile anche le cose più facili e passo di nuovo anche nel cipollotto e nella 15 0 che mi ritrovo subito dopo praticamente si capisce da sé che questo procedimento andrà fatto per tutte quante le superduo quindi ci vediamo a fine giro ecco come si presenterà il lavoro alla fine anche di questo giro mi raccomando tirate bene il filo perché deve tendersi proprio il lavoro a incurvarsi è normale che sia così deve praticamente essere un po' il rilievo al centro allora finito questo giro dove abbiamo inserito le 3 11 0 e unito le superduo mi sono portato ad uscire dal primo cipollotto 6x4 metto sull'ago 5 rocaille 15 0 e a questo punto mi infilerò nella rocaille quella del primo giro qua in mezzo nella rocaille 8x0 e tirerò bene il filo eccoci qua si posizioneranno così altre 5 rocaille 15 0 e mi infilerò nella parte opposta diciamo nel lato opposto del cipollotto da cui sono partita qui uscendo dal cipollotto tiro bene il filo e come vedete ecco come si posizionano le 15 0 ora cosa faccio passo attraverso tutte le perline quindi la 15 0 e le 3 rocaille 11 0 che abbiamo inserito prima ok tiro bene il filo bene e passo appunto in tutte quante se riuscite sicuramente le riuscite a prendere tutte in un colpo solo vediamo se ho fatto bene ok a questo punto cosa succede dobbiamo fare un archetto che copra le super duo quindi inseriremo sull'ago due rocaille 15 0 una rocaille 8 0 e due rocaille 15 0 ok e così passerò direttamente nel gruppetto successivo passerò anche in tutte le perline scusate per uscire nuovamente dal cipollotto tirando sempre bene il filo perché l'effetto che vogliamo è proprio quello che continua ad accentuarsi sempre di più man mano che andiamo avanti che praticamente il centro risulterà un pochino bombato e niente rifaremo questo passaggio quindi inseriremo di nuovo 5 rocaille 15 0 e ci andremo ad infilare in quella centrale del primo giro qua sotto rinseriremo 5 15 0 e ci infileremo nel lato opposto del cipollotto da cui siamo partite praticamente in questo inserimento poi risalirò per fare di nuovo l'archetto di 2 15 0 1 8 0 2 15 0 per poi riscendere e fare la stessa cosa per tutto quanto il giro ed ecco come si presenterà alla fine di questo giro dove avremo fatto questo doppio inserimento di perline il nostro modulo che praticamente sarà finito allora io ora una cosa ulteriore che faccio ma siete liberissimi di non farlo è passare praticamente attraverso tutto il giro e su ogni punta dove c'è la 8 0 saltare la 8 0 per farla praticamente risaltare di più però ripeto siete liberi anche di non farlo se vi piace più la forma arrotondata di questo petalino quindi fate come volete in questo senso io questo primo prototipo che ho fatto ho preferito realizzare con la punta così ma sicuramente ne farò altri anche con la punta arrotondata così come vedete ora allora poi vi farò vedere il risultato finale in ogni caso adesso la cosa da fare è ripetere questo modulino per 7 volte allora 5 modulini saranno normali così quindi li potete tranquillamente chiudere poi vi farò vedere in ogni caso come unire 2 modulini invece dovranno avere la solina dove mettere l'anellino e l'anellino con la chiusura quindi per farlo ve lo faccio vedere direttamente in questo dovrò uscire dalla praticamente qua avrò fatto l'ultimo inserimento quello delle 2 rocaille 15 la 8 e le 2 rocaille 15 vado avanti due perline quindi me ne lascio due perline davanti di quelle che ho nella lavorazione inserisco sull'ago 10 15 0 e mi infilo praticamente nella perlina speculare a quella da cui siamo partiti quindi questa e tiro il filo in questo modo si sarà formata questa solina se volete appunto potrete anche in questo caso infatti io per quello che poi inizialmente ho fatto tanto in giro lo faccio ugualmente perché mi piace comunque rinforzarlo di un giro di filo il il cappietto per essere perché sia più resistente oppure potete anche semplicemente fare così se non volete appunto fare la lavorazione che vi ho detto praticamente per tornare indietro senza fare il giro eccoci qua speriamo che mi sia riuscito ma non credo proviamoci si deve praticamente attorcigliare il filo ecco infatti ce l'abbiamo fatta sì perfetto e mi inserisco di nuovo nelle dieci perline se ce la faccio perché sono piccole queste col filo ce la faccio questo sicuramente però da dietro qua prenderle tutte quante tutte dieci è veramente un'impresa e invece l'abbiamo presa dai ce l'abbiamo fatto e di nuovo mi inserirò nella perlina da cui siamo partiti tirando bene il filo in questo modo avremo fatto praticamente abbiamo rinforzato il cappietto senza fare il giro di nuovo se non volete fare appunto la punta ad ogni picco che troviamo qua sopra il super duo effettivamente era un giro inutile quello ora praticamente procedo a fare i sette modulini come vi ho detto a unire il bracciale e per quest'ultimo ve lo unirò insieme così vi farò vedere come si fa e ovviamente sarà uguale per tutti quanti i modulini ci vediamo dopo ed eccoci qua che ho fatto tutti i sette modulini che mi servono per realizzare il mio bracciale holiday in questo caso ho già unito chiaramente i primi sei perché faremo insieme l'unione dell'ultimo che sarà uguale ovviamente per tutto quanto il bracciale qua come vedete è la parte dell'anellino che abbiamo fatto insieme quindi ho fatto il cappietto per inserire l'anellino col moschettone come vedete qua il discorso che vi dicevo prima le 8.0 spiccano fuori fanno una sorta di punta perché appunto ho preferito fare così ma voi siete liberi anche di lasciare tondo adesso vi farò vedere anzi ho lasciato appositamente qua la differenza per farvi notare come preferirete fare questo è l'ultimo modellino che dovremo andare ad agganciare al resto del bracciale io praticamente sono scesa dal cappietto che ho fatto e mentre scendevo chiaramente ho fatto come tutto il resto del bracciale ho praticamente saltato l'auto per fare la punta qua l'ho lasciato ancora tondo per farvi vedere la differenza come vedete è molto carino anche così infatti sicuramente il prossimo bracciale che proverò a fare lo farò col petalo tondeggiante è comunque carino in entrambe le maniere secondo me allora ora non ci rimane che agganciare al bracciale questo ultimo modulo che vi faccio vedere appunto come fare tra l'altro è veramente molto semplice e veloce come cucitura allora esco praticamente dalla terza rocaille 11.0 quella che abbiamo messo all'inizio se vi ricordate quando abbiamo unito le super duo scusate praticamente prima delle due 15.0 del picot quindi cosa faccio metto sull'ago una 8.0 prendo il resto del bracciale ok lo metto così e non faccio altro che entrare nella rocaille 11.0 speculare che mi trovo praticamente dall'altra parte tiro bene il filo in modo da unire ora sì ok scusate tiro bene il filo guardavo che combaciava tutto qua ancora sembra diverso perché chiaramente qua infatti questo che mi è sembrato strano qua non ho ancora fatto le punte ma dopo le farò lo lasciate così proprio per farvi vedere la differenza chiaramente non potete fare una punta sì una punta no perché poi si noterà la differenza ora a telecamera spenta attraverso le perline perché comunque ci si riesce ma chiaramente meglio che lo faccia a telecamera spenta perché potrei metterci un po' di tempo poi vi faccio vedere appunto come inserire anche l'altra 8.0 ecco che non ci sfuga perché tanto lo terremo ben unito per unirlo e ci vediamo fra poco eccomi qua che mi sono portata ad uscire sono andata avanti a punta camera spenta perché io avendo fatto anche il giro ulteriore in ogni modulo chiaramente la 15 è un po' difficoltoso il passaggio anzi se farete come me questo ulteriore passaggio dove il filo sarà effettivamente tanto già in mezzo alla 15.0 quindi sarà difficile passare vi consiglio in questo nel giro di unione di utilizzare magari un ago da 12 che sicuramente riuscirà meglio io ho fatto a fotocamera spenta proprio per passare e ci sono comunque riuscita ma per fare più velocemente sicuramente vi consiglio in questo ultimo giro un ago da 12 solo se avete fatto come me le punte perché se non avete fatto le punte avete fatto un passaggio in meno e sicuramente sarà più facile passare attraverso le perline allora a questo punto esco di nuovo anche da questa parte dalla terza rocaille 11.0 come abbiamo fatto prima quindi prima delle 2.15 del picot metto sull'ago una 8.0 nuovamente ok e mi infilo direttamente anche in questo caso nella rocaille 11.0 speculare cerco di prendere quelle che riesco così vi faccio vedere meglio tirando che abbiamo unito veramente in due semplici mosse il nostro braciale qua chiaramente come vi facevo notare la differenza io ora ripasserò di nuovo nelle perline per fare i miei picot per saltare appunto come ho fatto nel resto del braciale per saltare la 8.0 perché se no come vedete qua si nota tantissimo la differenza ma come vedete è veramente molto carino anche lasciato tondo in tutto il braciale ovviamente e quindi ci vediamo quando avrò finito questa lavorazione ed ecco qui che dopo aver continuato qua il filo per fare i miei due altri picot ho fatto un nodino un doppio nodino nascosto il nodo chiaramente nella lavorazione ho messo l'anellina anche da questa parte in modo che appunto possa venire la chiusura del braciale e il braciale holiday è così terminato guardate che bello io veramente lo adoro mi piace un sacco spero di vederne tanti realizzati veramente perché come avete visto i materiali sono pochi la realizzazione è molto semplice anche se comunque è un braciale di gran effetto a mio parere come vedete tra l'altro la mia raccomandazione di tirare bene il filo ha creato questo effetto un po' bombato al centro che mi piace veramente tantissimo come potete notare in tutti i moduli uguale e niente questo è il braciale spero che vi piaccia condividete il video con le vostre amiche creative per farlo conoscere mettete mi piace se vi è piaciuto il progetto e niente io dopo tanto tempo finalmente vi ho fatto questo regalo spero ne sia valsa l'attesa sicuramente ho altri progetti che vi avevo promesso che insomma mano a mano farò e quindi continuate a seguirmi mi raccomando alla prossima ciao 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 ciao